Ciao a tutti, popolo del tubo e siamo tornati sulla Wild Farmer in Farming Simulator 17. Come vedete siamo nel secondo giorno d'autunno, abbiamo trebbiato il nostro mais nella scorsa puntata ed è venuto il momento di andare a seminare i cereali. Io sono qui nella mia officina, adesso devo fare un lavoretto, voglio collegare il caricatore, cioè voglio sistemare il mio trattorino in modo che possa ospitare il caricatore frontale. Questo mi costerà un po' di soldi, un po' di tempo, vedete ho preso già la mia mazzettina qua per fare i lavori. Allora, configura, si aggancia, gli cambiamo anche il motore, gli portiamo 40 cavalli in più di potenza, non male. Lasciamo tutto di colore bianco così e il nostro Valtra è configurato alla grande. Andiamo anche a vedere se c'è qualche possibile modifica per il nostro case che andremo ad utilizzare, eccolo qui, ci aiuterà per la semina dei cereali. Non faremo tutto questa puntata perché abbiamo tanti campi da erpicare, arare e quindi ce n'è da fare ragazzi. Torniamo alla nostra officina, eccoci qua, vediamo un po', allora, volevo accendere la luce ma è pieno giorno, si vede bene, configura, qui gli mettiamo il caricatore frontale, sì, ok. Allora, che cosa facciamo ragazzi? Io direi di iniziare a capire quali campi fare e quali no. Il 54 era a mais e lo lasciamo a mais, il 57 è quello più lontano che ha orzo appassito, diciamo, andato a male che non abbiamo raccolto, non ce ne siamo accorti che era nostro quel campo. Questo campo lo lasciamo a questi due campi, questo facciamo mais e questo facciamo, avevo detto, semi di soia, che è quello diciamo che porta un po' più soldini. Poi, vicino alla farm faremo il 53 ce lo facciamo ad orzo, il 55 a frumetto, il 56 che è più grande lo facciamo a colza e anche il 13 che è lontanuzzo, lontanuzzo, lo facciamo a colza, così non dobbiamo tornare per la paglia, per raccogliere eccetera eccetera e fare 300 viaggi. Io di solito i campi più lontani li lascio sempre a colture che non lasciano paglia, perché poi devo tornare, raccogliere, tutto quanto. Adesso ce ne andiamo allo shop, talve. Ce ne andiamo dal nostro Morgan, dove andremo a comprare due aratri, non ne abbiamo, la gente mi dice, Robby, Robby, ma questa mappa con le paleoliche fai troppi soldi, troppa carriera tutte insieme. Una fava ragazzi, una beata fava, guardate come vanno via i soldi, adesso ve lo faccio vedere io come vanno via i soldi. Innanzitutto, salve signor Morgan, salve signor Morgan, volevo due aratri, questo è ingestibile ragazzi, questi sono troppo lunghi, sono ingestibili, i nostri campi sono stretti con tutte le piante intorno, è impossibile, va sicuro. Allora, questo è il massimo quindi, prendiamo due aratri, sperando che il case ce la faccia, ma io penso di sì, dai ce ne compriamo due. Signor Morgan, se uno me lo manda direttamente in farm, uno lo porto via io, e uno me lo manda invece direttamente in farm, le sarei molto grato, un attimino che faccio lo zoom, ecco fatto. Questo lo mettiamo in farm e uno invece lo portiamo via noi, in modo da iniziare la nostra, oh ho spento, dovevo accendere ho spento, la nostra aratura. Allora, andiamo ad attaccarci l'aratro, poi andiamo in farm, assumiamo un bello peragliotto, e iniziamo con l'aratura dei campi. Oddio, come si sente il peso ragazzi, come si sente il peso, come sbanda il nostro Valtra, nonostante tutta la sua potenza ragazzi, sbanda tantissimo con il peso dietro, si vede proprio che è pesante questa aratro. Ok, io mi metto subito qui, che è il campo che inizierò ad ararmi, intanto me ne vado in farm, eccomi qui, accendo il nostro bel case, nella speranza che ce la faccia, ma guardate, non sottovalutatelo questo case, che è un buon trattorino, è un buon trattorino, secondo me ce la fa. Allora, guardate i soldi come vanno via, 157.000 euro, e ancora non abbiamo finito la stagione, i soldi vanno via ragazzi, abbiamo delle entrate mensilmente, però, ah il gattino! Ne compriremo un altro ragazzi, non vi preoccupate, ne compriremo un altro. Allora, intanto il case, passo di qui tra una pianta e l'altra, vedete come stanno le piante ragazzi, non potevamo comprare l'aratro quello grande, rischiamo veramente di fare un bordello. Allora, andiamo, intanto, ad arare quel campo che è seminato, ma non si capisce a cosa, perché sul PDA non c'è scritto nulla, la coltura, ma andata avanti il tempo, non cresce, e quindi noi lo ariamo. Mettiamo qui il nostro simpaticissimo operaio, si, ha completato il lavoro, ragazzi, questo scapoccia, ma come ha completato il lavoro, e lo facciamo lavorare. Noi torniamo dal nostro Valtra, dov'è il Valtra, dov'è il Valtra, eccolo qui, lo accendiamo, e iniziamo ad arare, ragazzi, iniziamo ad arare, giù così, e la si va, e la si va. Abbiamo, ne abbiamo di lavoro da fare, ragazzi, piano piano, piano piano, cercheremo di portarlo a termine. Non abbiamo, abbiamo solo le pecorelle, non abbiamo le muccozze con il letame e cose varie, quindi andremo a fertilizzare chimicamente il campo per tre volte, ma intanto abbiamo bisogno dell'aratura. vicino alle piante qua, ci areremo dopo, alla fine, adesso è un po' un problema riuscire ad arare bene con queste piante, che quest'inverno taglieremo, se il sindaco mi manda, l'avevo già detto, se il sindaco mi dà il permesso, ho già fatto la domanda, diciamo, e speriamo che mi venga accettata, sto aspettando risposta, siamo in autunno, ormai dovrebbe arrivare da un momento all'altro la risposta del sindaco, quindi io sono fiducioso, ho bisogno di far legna, quale miglior modo di, se non quello di andare a, ammazza come ho arato male lì, scusate, ci ripasso perché non mi piace così, dico quale miglior modo, se non quello di fare legna con le nostre piante, cioè, non sono proprio nostre tecnicamente, ma comunque stanno sul nostro terreno, e quindi, credo che sia giusto, che abbiamo la possibilità di tagliarle, vabbè dai, se rimane qualche ciuffettino non fa niente, poi a fine, a fine, diciamo, a fine lavoro andrò anche a mettere a punto quelle cosettine che, ecco, magari danno un po' fastidio all'occhio, anzi qui lo faccio subito, raga, così non faccio lamentare nessuno, torno indietro, poi vediamo un po', ok, ok, così, e ok, i campi squadrati, ragazzi, sono sempre un casino da, da arare, sono sempre un casino da arare, i campi, i campi questi, diciamo, squadrati, però, piano piano, 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 riusciremo, nell'impresa, 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 vabbè, anche la nostra è un'impresa in tutti i sensi, siamo una ditta, una ditta agricola, quindi, ha, 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 la simpatia di Robbimel, Eh, ah, volevo fare una cosa, volevo ringraziare un utente, eh, Matteo, che mi ha regalato il DLC Kun, ragazzi, grazie Matteo, grazie, grazie mille, eh, lo metterò in serie, senza dubbio, eh, magari quando avremo fatto questi lavorini, e andremo, diciamo, a farne altri, inizierò a comprare anche gli attrezzi della Kun, eh, e quindi, Matteo, ti ringrazio proprio qua sul video, pubblicamente, del regalino che mi hai fatto, eh, e niente, eh, non, non lo vedrai magari in questo video, la, il tuo DLC, perché stiamo amando, ma ti assicuro che nei prossimi video, buttalo dentro questo DLC, questo bel regalo che mi hai fatto, eh, e, 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 mi è stato molto utile, tra l'altro, perché, diciamo, economicamente, non voglio fare il piangione su YouTube, ma non è, come tanti altri, non è un, un, un periodo roseo, e, mh, non me lo, non me lo son fatto, perché non, non potevo, diciamo, permettermi di spendere 15 euro lì, e, e, e grazie al tuo gesto, Matteo, posso godere anch'io di questo DLC, quindi, grazie mille, eh, eh, e, eh, e, vabbè, niente, ci tenevo a ringraziarti, eh, pubblicamente. Allora, ragazzi, siamo alla fine, ormai, del campo 55, ed è solo il primo campo che abbiamo fatto, hai voglia di ad arare qua, e come vedete qui, andiamo tutto di retro, così, alziamo l'aratro, che è praticamente un triangolo, eh, alziamo l'aratro, facciamo così, arriviamo qui, alziamo l'aratro, ritorniamo qui, eh, eh, facciamo l'ultimo pezzettino, ecco, questo, eh, lo facciamo così, con il contorno, adesso, iniziamo a fare il contorno, e chiuderci il nostro campo, quindi, lo facciamo insieme, e, soltanto il primo campo, ragazzi, soltanto il primo campo, chissà il nostro pelaglio che sta facendo, adesso lo andremo a controllare, e ce n'è, ragazzi, di lavoro da fare, eh, ce n'è, ce n'è, ce n'è, ce n'è, del resto, ragazzi, per avviare una farm, eh, non è mai, non è mai semplice, ci vuole del tempo, e noi il tempo lo abbiamo, e quindi abbiamo anche calma e pazienza, e quindi, non dovrebbe essere, un problema, iniziare, la nostra avventura, qui nella VOLFORMER, intanto, guardate, stiamo facendo, praticamente, la Formula 1, certi, certi, curvoni, assurdi, però, purtroppo, ragazzi, i campi squadrati, è così, devo andare anche qua, in mezzo ai cespugli, eh, che devo fare? hanno, veramente, messo questo campo, un pochino, troppo, attaccato, ragazzi, secondo me, alle piante, ai cespugli, eh, veramente, un super squadrato, io, posso capire i campi squadrati, ma questo, ragazzi, è veramente, super squadrato, andiamo a chiudere il campo, di qua, l'abbiamo fatto, dobbiamo fare solo una strisciata giù in fondo, come vedete, e chiudiamo il campo 55, andiamo subito, ci buttiamo subito, ragazzi, eh, su quello successivo, si va, si va così, perfetto, ok, perfettissimo, perfettissimo, e andiamo a chiudere anche questo campino, intanto il nostro operaio, oh, mio Dio, ragazzi, l'operaio è bloccato, mi sa, o no, lo vedo, è spento, cioè, non mi è arrivato a me nessun messaggio in camera, in, in gioco, però, bah, fatemi fare questo pezzettino qua, e poi, vediamo che cacchio ha combinato, che cacchio ha combinato il nostro operaio, che cacchio ha combinato il nostro operaio, andiamo a vedere, guardate, è fermo, è praticamente fermo, raga, cioè, non ha combinato niente, ha fatto un pezzettino di campo, ma io mi sono fatto tutto il campo, ma guarda la miseria, questo campo non è tutto, probabilmente, raga, qui c'è un problema nel trigger, c'è un problema nel trigger, e lui, non, non, forse è meglio farla arare per così, ara per così, dai, così giri su, giri, giri su in cima, sì, probabilmente c'è un problema con il trigger del campo, riconosce, non so perché, quest'altro campo, facciamolo arare per così, così può darsi che riusciamo un attimino, no, 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 riusciamo un attimino a capirci qualche cosa, allora, il 55 è fatto, il 53 lo sta facendo il nostro incapace, manca il 56 e il 13, allora io mi vado, mi andrei subito a fare il campo 13, raga, il campo numero 56 è già arato, ma va arato un'altra volta, qui, raga, ho spaccato il segnale, vabbè, ma tanto il sindaco è un comune efficiente, e quindi tutti questi segnali che io ho buttato a terra con l'aratro, li tirerà di nuovo su, dicevo, il campo questo è arato, non so se ararlo di nuovo o ararlo il prossimo ciclo, io direi, questo campo qui, adesso ci prendiamo il 10% in meno, chissene, e il prossimo ciclo lo ariamo, perché andare a arare sull'arato, raga, a me proprio non mi si prende, raga, non mi si prende di andare ad arare sull'arato, allora, dobbiamo girare di qua, di qua c'è la ferrovia, quindi non si può, eh, a fine strada giriamo di qua, e dovrebbe essere il campo 13, qua giù, allora ragazzi, stiamo quasi arrivando al campo 13, che è da arare, ragazzi, che è da arare, a me quanto mi urta arare i campi coltivati, raga, è una cosa che voi nemmeno, cioè, nemmeno ve ne rendete conto, quanto mi urta arare i campi coltivati, però purtroppo ci dà il 10% in meno, quindi già il campo, il campo 56 lo lasciamo da arare, se poi lasciamo pure questo, è la fine, e invece io, raga, me lo aro, poi erpico di nuovo, e quindi mi passa, diciamo, quel 10% in più il campo, che è importante, che è importante, perché se mettiamo l'aratura necessaria, poi l'aratura, raga, bisogna farla, non ci so cazzi, bisogna farla, comunque questo campetto è piccolino, penso ci mettiamo pochino, 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 pochetto ci mettiamo, speriamo che il nostro operaglio di là riconosca i campi, perché è un po' ubriaco, ricordiamo, abbiamo l'operaglio ubriaco, che non si ricorda nemmeno qual è il suo campo, va, va, dice, dice che questo campo non è il mio, invece è il suo, poi dice campo terminato, invece il campo, ce n'è più di metà, forse dovrei controllare un pochino di più dove vanno la serie i miei operai, perché, secondo me, secondo me, secondo me vanno a bere, dovrei controllare un po' di più, guardate che discesone ragazzi, il campo 13 praticamente ce l'hanno messo in mezzo alla zona forestale, proprio in mezzo alla foresta, in the forest, e quindi speriamo che non ci esce fuori tipo, che ne so, il coso, lì, come si chiamava, quel giochino che andava tanto di moda che dovevi trovare i fogliettini nella foresta, slender, slender, ecco, speriamo che non ci esca fuori lo slender in mezzo a tutto questo, speriamo di no, intanto noi continuiamo ad arare, e raga, l'aratura purtroppo è una cosa che va fatta, poi soprattutto adesso che a farming 17 ha un senso, quindi smuove il terreno, diciamo, riporta i valori nutritivi del terreno, areggia, insomma, aiuta la fertilità, anzi, io avrei messo anche un pochino di più del 10%, perché per me l'aratura aiuta molto di più del 10%, i campi, però vabbè, già è meglio di niente, è meglio questo che niente, raga, meglio questo che niente, guardate come rimuoviamo tutto il nostro campo erpicato, lo stiamo praticamente portando, lo stiamo praticamente portando, smuovendo tutto, e vedrete che questa bella farm la facciamo rivivere, ragazzi, la facciamo rivivere, questo era un campino abbandonato, l'abbiamo preso noi, e vedrete che riporteremo il campo ai suoi fasti ottimali, ai suoi valori ottimali, ok, andiamo, andiamo, andiamo a darar, basta, se no mi danno lo strike, lo so che mi danno lo strike, allora, 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 perché sono tremendi i settenani, raga, e segnalano i video come niente, vai di segnalazione, vai di segnalazione, e voilà, le jason fight, le jason fight, ok, giriamo, e torniamo su, io, raga, comunque direi che mi finisco questo campo off camera, e poi, vediamo il da farsi, ce ne torniamo in farm, sperando che il nostro amichetto, il nostro amichetto del campo, che ho messo sul campo 53, stia ancora lavorando, sì, dal PDA sembra che stia ancora lavorando, quindi, raga, facciamo un piccolo taglietto, vi faccio vedere il campo terminato, poi torniamo in farm, eccetera, eccetera, allora, ragazzuoli, ho appena finito, fammi togliere dei binari, mamma mia, allora, ragazzuoli, ho appena finito questo bellissimo campo, e lo abbiamo arato tutto, e ricordiamo che questo era un campo incolto, quindi, sì, era coltivato, ma il padrone vecchio, diciamo, il vecchio proprietario, l'aveva abbandonato da tempo, e quindi, ragazzi, abbiamo dovuto smuovere tutta la terra, e tutto quanto, perché altrimenti ci sarebbe cresciuto sto cazzo, come si dice dalle mie parti, e quindi, e quindi abbiamo dovuto farlo. Adesso ce ne andiamo in farm, ce ne torniamo, e andiamo a vedere se il nostro velaio ha finito di fare il campo numero 53, io credo proprio di sì, ormai, eh, però mai dire mai, mai dire mai, raga, mai dire mai. Vi sto guidando dall'esterno per farvi vedere questo bel paesaggetto della Wall Farmer, guardate che bella mappina, devo guidare leggermente a destra, perché ho paura che con l'alatro mi porto via le piante, e quindi è sempre meglio andare un po' pianino. Guardate che bella questa fattoria, questa piccola fattoria con i cavalli, quanto mi piace. Vicino la macchina per il compost, i cavalluzzi. Allora, dovrebbe essere di qua, se non mi sbaglio. No, no, ho sbagliato. Giriamo qua, dove c'è la macchina per il compost. Dovrebbe essere di qua, raga, io ci metterò una vita prima. No, di qua, ci metterò una vita, raga, prima di imparare sta mappa, perché io anche nella realtà, raga, so così. Cioè, io non mi ricordo mai le strade, se uno mi dice le strade, io prima che me la ricordo passano l'anni, decenni, capito, raga, è così. Non ci posso fare niente. Adesso, prima di tornare in farm, diamo una mano al nostro velaio, perché se no questo sta qui i 16 anni, sta qui i 16 anni. Dove sta? Dove sta? Mamma mia, ancora lì, è. Ancora lì, è, raga, ancora lì, è. Guardate quello che ha combinato qua. Guardate quello che cavolo ha combinato, mamma mia. Ce ne vuole qui, eh. Ce ne vuole qui, eh. Per sistemare i danni che fa questo. Vabbè, allora, già che ci siamo, diamo una mano al nostro velaio, raga. Tanto questa puntata ormai è andata per la natura. Eh, i campi, purtroppo, avevano bisogno. Non voglio dilungarmi più di tanto, perché magari, forse è meglio far uscire puntate, diciamo, un po' più corte. Magari farle uscire spesso, ma un pochino più corte, perché io capisco che, voi ragazzi, tra la scuola, tra il lavoro, chi è, insomma, non è che avete tanto... Tra i youtuber più grandi da vedere, che anche loro sfornano quasi un video al giorno, capisco che non è che avete tutto sto tempo che sta a vedere tutti i miei video. Quindi io cercherò di farli un pochino più brevi, ne facciamo un pochino di più, in modo che riuscite a vederli. Quindi adesso io finisco questo campo, finiamo insieme questo campo, raga. E poi vi saluto. Questa puntata, diciamo, è tutto. Però vi prometto che ne faccio uscire... Cercherò di farne uscire due a settimana della Wall Farm, eh. In modo di fare, diciamo, un pochino più puntate, un po' più corte, ma, diciamo, un po' più numerose. Vedete, intanto, il nostro pedaio, che veramente, io credo proprio che dopo oggi lo licenzio, perché è stato proprio lentissimo, è stato proprio distrattissimo. Non mi è piaciuto, non mi è piaciuto. Lo so, raga, che è brutto vedere arare sul seminato, però, ve lo ripeto ancora, purtroppo, ragazzi, il vecchio proprietario ha lasciato tutti questi campi incolti, e su questo campo non si è capito cosa avesse fatto, perché, ripeto, sembra seminato. Come vedete, dalle texture sembra seminato, ma non cresce nulla, quindi è come se lui fosse passato con una seminatrice senza semi. Cioè, che ha fatto solo i, diciamo, i segni, ma non ha messo nessun seme. Quindi siamo stati costretti a ribaltare completamente tutti i campi, e pace, e pace. C'è anche un campo, ricordiamo, già arato, ma anche quello vecchio, però, raga, lo andremo ad arare la prossima stagione. Ce lo teniamo così. Del resto un po' di terra la smuoveremo con l'erpicatura lì, quindi, vabbè, dai, andremo un attimino a vedere il da farsi. Non so se la seminatrice, quella in farm, quella che abbiamo in farm, erpica e semina contemporaneamente. Quindi, se ha la combinata, risparmieremo anche tempo, e andremo, e andremo direttamente, la prossima puntata, a coltivare e seminare con lo stesso attrezzo. Ecco qua il nostro peraio, intanto, mi dispiace pure che lo devo pagare, raga, eh, lo devo pure pagare, capito? Cioè, dopo che non si sa come lavora, lo devo pure pagare, lo devo pure pagare, ma, comunque, che vogliamo farci? Che vogliamo farci? Una bellissima aratura, qui alla Wallformer, come potete vedere. Comunque, raga, i soldi vanno veramente via, meno male che abbiamo quelle paleoliche, perché così riusciamo, eh, a fare qualcosina in più in carriera, perché, se no, qui, veramente, usciva a farmi in 19, e noi ancora stavamo qua, qua. Ok, alzo, faccio questo pezzettino qua, ok, ok. E adesso ci andiamo a chiudere il campo, tanto penso che lui l'ha finito, sì. Perfetto, raga, chiudiamo questo campo E ci salutiamo, per questa puntata è tutto La prossima puntata andremo o a coltivare o a seminare o a fare tutte e due le cose insieme, se la seminatrice ha la combinata Adesso non me lo ricordo Brava aiutante A che hai finito il tuo lavoro, era pure ora, direi Abbiamo finito anche noi, eh, tra poco Adesso prendo il mio aiutante, ce ne torniamo in farm, stacchiamo l'aratri e ci salutiamo Questa puntata di aratura, ragazzi Aratura go go, la chiameremo la puntata aratura go go, ragazzi Poi ci comprendiamo anche questo campo qui, eh, che tanto è vicino ai nostri Lo vedo anche questo, lo vedo, lo vedo abbastanza abbandonato a se stesso, quindi Allora ragazzuoli, allora, eccoci qua in fall of me E se ne torniamo al campo, base Al campo base Ce ne torniamo alla farm, ragazzi Abbiamo arato, è stata una giornata di aratura storta Di aratura tutta zigo zago Di aratura squadrata Ma comunque pur sempre di aratura E quindi i nostri campi ci stanno ringraziando Sentite già come respirano i campi Ah, fa così la terra, raga Che respira Abbiamo fatto respirare la nostra terra E adesso vediamo un attimo dove parcheggiare gli aratri Dov'è l'operaio? Dai, ma te muovi? Dai Su, dammi il trattore Dai, bella, su, è una femmina, raga Ok Allora, bella Parcheggiamo qua gli aratri Dai, qua dentro Piano Piano Che li parcheggio io è meglio Le faccio io le manovre, mi fido di più Allora Così Sarà un casino qua dentro mandare l'aratro Ok, così Ok Va bene così, dai Va bene così Mettiti qua Non te muovi più Per carità Ok Andiamo adesso a sistemare anche l'altro aratro Ok Mentre il nostro gattino nuovo Perché quello vecchio l'abbiamo tipo calpestato 12 volte Sta miacolando Mettiamo Oddio, non vedo un cazzo Mettiamo qua Ok Posiamo qua l'aratro Giù così, ragazzi Prendiamo il nostro valtra Speggiamo tutto E Ci salutiamo, ragazzi Allora, in questa puntata di arature storte e campi storti Abbiamo fatto quel che potevamo Io vi mando un salutone Vi ricordo di iscrivervi Iscrivervi, ragazzi Perché è molto importante Se vi piace come faccio video E quindi volete seguirmi E di condividere Perché magari, ecco Potete dire a un amico Guarda questo stronzo come fai video Guarda sto coglione E quindi Magari il canale aumenta Ehm Vabbè, raga Io vi saluto Vi mando un abbraccio Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao